buongiorno a tutti siamo quasi a natale questo è il mio presepe come regalo natalizio l'amministrazione comunale ha ben pensato di multare con mille euro cada uno i piccoli commercianti che operano all'interno del mercato coperto di via carducci il motivo perché la cassetta di pomodoro spuntava un metro fuori dal bancone o perché le mutande erano messe in un espositore non regolare ma stiamo veramente scherzando intanto in città siamo sommersi da ambulanti abusivi v comprà che disturbano i nostri cittadini e noi andiamo a punire chi lavorando tante tante ore al giorno porta a casa in tutta onestà un misero stipendio siamo davvero impazziti io metto a disposizione il valore del mio gettone del consiglio comunale di oggi per una raccolta per dare una mano a questi commercianti puniti con l'ultima follia di questa amministrazione buon natale